Musica Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata dei Mestieri del Mare Oggi iniziamo il nostro viaggio parlando del mestiere del rizzatore Andiamo a vedere quali sono le importanti mansioni di questa figura lavorativa Il rizzaggio consiste in una serie di operazioni finalizzate a legare solidamente in modo adeguato i container Per far sì che durante il trasporto via mare rimangano fissati senza provocare danni Musica 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 Il rissaggio è finalizzato in particolare alla tutela e alla sicurezza della navigazione, oltre che alla tutela del carico. Il rissaggio viene mediante materiale certificato, garantito come cavi d'acciaio, rizze metalliche, cinghe in cordura, spessori, tacchi di legno e chiodi. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!